Signori ci siamo finalmente siamo su resident evil avete visto magari l'immagine del gioco un paio di giorni fa però purtroppo non sono riuscito a pubblicarlo causa embargo capcom dà gli strike ragazzi quindi io sinceramente dopo sei anni non voglio avere strike per motivi di embargo Per cui oggi sono qui signori per andare a vivere insieme forse questa avventura resident evil voglio 25.000 mi piace ragazzi a questo video facciamo 30.000 like a questo video se vorreste vedere il continuo di resident evil piacerebbe davvero tanto è tantissimo ragazzi non voglio che voi tra virgolette me lo roviniate perché io voglio assolutamente godermelo al 100% mi piace veramente mi piacerebbe davvero tantissimo farla assieme a voi davvero non c'è cosa che vorrei di più In questo momento livelli di difficoltà non può essere cambiato nel mezzo di una partita quindi casa degli orrori facciamo a livello normale per l'amor di dio va bene ragazzi penso che questa esperienza inizi qua vi ricordo sempre che questo qui è un survival horror in prima persona andiamo a vedere il filmato forza Ehi amore Beh ecco volevo solo salutarti velocemente e dirti che ti amo tanto Oh indovina un po' sarò di ritorno a casa molto presto evviva Non vedo l'ora di farla finita con questa storia della babysitter e di tornare dal mio amato marito Mi manchi tanto Ora devo tornare al lavoro sappi che ti amo etan mi manchi molto ti mando un mare di baci ti amo tanto Ciao amore Eton Sì è vero ti ho mentito non avrei dovuto ma Quello che posso dirti è che se troverai questo Stanne lontano Che bello inizio Che bello inizio Pronto Ehi sono etan Ehi etan tutto bene sei sparito l'altra sera Sì va tutto bene però Mia Non è morta lei è viva è tornata L'hanno trovata ma come sul serio Io non lo so ma È tornata Non so come ha fatto ma è tornata Forse è uno scherzo Vuole che la raggiunga Ma lei dov'è? Dalve Dalve è Louisiana Merda ma sono passati tre anni Lo so ma se invece fosse davvero lei Voglio scoprire qualcosa in più Stiamo giocando eh raga Siamo in Louisiana In pratica forse lei era morta Ma dopo tre anni Lui ha ricevuto sue notizie Non so come forse quel filmato non ho idea Qui parte Resident Evil signori Questo è il posto È ancora viva Questo qua forse è il posto dove lei ha Mi ha dato il messaggio Non lo so Ah Sicuramente vi starete chiedendo Ma perché non lo fai col VR? No ragazzi No Io voglio godermolo al cento per cento Purtroppo il VR Ah ci sto giocando su PS4 Pro Ok Questo è il mio obiettivo Devo arrivare là mi sembra Ok Ottimo E questa è una casa Mamma mia ragazza è fluidissimo Porca puttana Su PS4 poi ho ottimizzato sto gioco eh E probabilmente anche nel video si vede abbastanza bene Ok suoniamo Dai di tempo di rispondere un attimo zi Riprova? Non c'è nessuno mi sa E qua è chiuso Iniziano le prime difficoltà Perfetto Allora mi sa che dobbiamo andare di là Quindi adesso ci giriamo Andiamo da questa parte Ok Furgone Voilà Ok Non ci si riesce Lì Ah qua si può aprire Vediamo Una storia molto figa ragazzi Fidatevi Allora E questa è la casa infestata sicuramente Accetta il suo dono Oh minchia Sembra molto Outras secondo me Io mi baso tutto sulla demo Mi raccomando Aspetta che Scusate un secondo Voilà Devo vedere se tutto va bene Ok Ah e Là c'era qualcuno ragazzi L'avete visto? Sì Sì che l'avete visto Io l'ho visto benissimo anche E dove può essere andato Scusate Quello lì è quel bastardo Vecchio di merda Che c'era nella demo Ok Dritto di qua Ah io provo a seguire la sua direzione Che sicuramente Dei corvi Che cos'è sta roba Fanculo È un qualcosa di scuoiato Ma non riesco a capire che cos'è ragazzi Ve lo giuro Non riesco a capirlo Oh oh Sì Sembrano tanti cavalli Messi in questa posizione qua Non ti stai facendo delle domande bro Sul perché di questa roba Anche ragazzi Sto qua è Cioè È una grafica pazzesca Non mi sono mai aspettato Resident Evil Comunque Ma è che anche quello in Africa Non era male Ok forse siamo arrivati Nella location Qua c'è una borsa Uh patente di guida Mi sa che è proprio la patente di guida Della mia ragazza Ok La stampa delle meni Di tua moglie Mia scomparsa da tre anni E questa patente di mia E coperta una sola sostanza nerastra Ok E che cosa ci fa la patente di mia moglie Qui Raga ma questa non è Questa qua è la casa della demo Solo che era buio Ok Sedi a rotelle Oh cazzo no Non vedo niente raga No non vedo niente Sei matto Ok Chiudiamo da bravi signori Un po' di privacy Qua è un trofeo continuo Comunque in casa c'è qualcuno Raga Sicuro No Qua mi sa che non c'è nessun oggetto da utilizzare Ok Ok Allora Questa la sappiamo già Va via Questa serve più che altro per il VR Queste scelte qui Chiudiamo il rubinetto va Che mi dà fastidio rumore Ok grazie Forno a microonde Un corvo È not bad Madonna Che sa che puzza che c'è Più di 20 persone scomparse in due anni Com'è esattamente mia moglie Ora sappiamo del perché Lui ha delle motivazioni valide per stare qua Che se sinceramente Non riesco a capire che cazzo sia sta roba Ma va bene Ok andiamo su di qua Che c'è un pulsante che lampeggia Ovviamente questa roba qua Noi non possiamo far finta di non saperla Perché l'abbiamo già vista Ah qua si salva Perfetto Sì sì salviamo salviamo Ok Ricordiamoci ragazzi che questo registratore qua Si salva la partita Perfetto Filmato casa abbandonata Ok abbiamo trovato un filmato Proviamo ad attivare il pulsante qua Non funziona Bene All right Oh mi mancavano sti giochi ragazzi Ve lo giuro Mi mancavano un tot Allora Suppongo che dobbiamo mettere sto filmato nella tv Qua non c'è nulla Ma è proprio bello raga Perché mi viene da parlare anche abbassato A bassa voce Perché qua è proprio Tutto silenzioso Qua è pieno di fogli Oh questo è un foglio Vedo cosa c'è scritto Niente Ok Questo è un altro foglio Presumo che sia lei La porta non si è chiusa da sola Qua mancano due fusibili Qua manca un fusibile No ovviamente non serve Qui Questo viene giù il coso Ok Scusate raga forse magari molti di voi non l'hanno visto Quindi se non spoilerò più Questa è una cella Qui Quello è l'uomo che abbiamo visto nella foresta prima Assolutamente Ok Mettiamo sta cassetta va Bu Ma dove l'hai trovato C'è un taglio pit Ehi Lavoro coi professionisti A proposito Controlla che l'audio funzioni Non voglio un nuovo amarillo Ma è una storia di due anni fa E non mi doppio Ragazzi qua fondamentalmente la beta C'è la demo che c'è State disponibile per mesi Io comunque la gioco Perché giustamente molti di voi Magari non l'hanno vista Bene giocata Ci sono dei reporter Che fanno un programma televisivo Sugli zombie Portergeist Felice Deliziato Di casa abbandonata Siamo pronti Ora basta porto Struz come on Ok Adesso è aperta Vai pure Tranquillo Comunque questa parte sarà molto veloce Raga perché so tutto a memoria L'ho fatta tre volte Che c'è troppo Che cazzo Era un presentatore io Sostituto pit Sostituto Cosa Nulla La storia Andre Una fattoria abbandonata Una famiglia scomparsa E forse un delitto Ok così sapete la storia Da quanto hai detto che è abbandonato Tre anni Io ci provo Questo poi del resto è come era all'inizio Senza scarafaggi Ma è una femmina Gente tranquilla Non arretrata Girano brutte voci sul figlio Lucas C'è niente La pecora nera Sapevo di dovermi mettere le altre Boh Io l'ho messo lì Ma che cos'era raga Aspetta un attimo È un gran bello sfondo Ah è un documento Andre Ecco lui è sparito Adesso dopo quando torno io Che smetto di guardare il filmato Me lo guardo Vado a vedere se c'è Dov'è? Oh cazzo non posso crederci Non lavorerò mai più con lui È sparito davvero Allora fine i produttori vanno e vengono Ma un buon cameraman come te? Cos'è stato? Ho sentito? Ah io ho sentito sì Ho sentito sì Si mette un'ansia raga Madonna Ma è tutto così sto gioco? Ma io muoio? Tutto esattamente com'è Adesso Fusibile? No Queste lì Cassetta Che diavolo? Ok Che cazzo? Facciamo così Troviamo Andre e poi ce ne andiamo Fa un culo lo show Eh bisogna Eccolo Andre Prima tu Riprendimi tipo eroe Mentre scendo Eh Allora Vai pure Eh ci sono ci sono Il cazzo che ti riprendo come eroe Che cosa vedi? Che cos'è? Eh è Andre Andre Ok questo è Andre Messo così Ok Cristo Come avete visto Questa Era la cassetta Questa me la fa rivedere Se la metto dentro Allora adesso noi andiamo a vedere qua Che c'è la levetta Come abbiamo visto nel filmato Ah Prima però vorrei andare a vedere se C'è Disponibile Però sempre stando molto attenti Quello che ha lasciato il reporter Là che l'ho messo io dentro Prima non l'ho visto No è chiuso Eh no Vedete che adesso c'è Oh no no Forse no Niente da fare Guarda cosa è sto rumore Sulla sedia Ok ok No Non c'è più Quella vorrà Si vede che ho E' chiuso Il cassetto Non ci ho fatto caso Io Vabbè So fosse un easter Carino Ok Entriamo Raga vado molto svelto Perché so com'è Cioè nel senso So com'è Funziona qua Mica peraltro Quando poi non saprò Ecco io Qua non si poteva scendere Mi sa non la demo Ok qua si è rotto Non puoi più salire Zeo Dannazione Ok Qui è dove è morto Andre C'è ancora il suo sangue Raga sto pezzo Non l'abbiamo fatto Non la demo Quindi occhio Sarò molto 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 Più pauroso E' più cauto In fare le cose Benino Ok lei forse C'è uno spirale Figlio di luce Che cazzo Il mi giro Non si sa mai Ok Oddio mamma Madonna Vada vaffanculo E' raga Mi sono davvero cagato addosso Ok Che devo fa Ok Non Cazzo qua ci sono le prigioni Le celle Come era nel Che cazzo è Che cazzo è Raga io sinceramente alzerei un attimo la sensibilità Sapete Troppo lenta Raga ma C'è qualcuno No Sì Mia C'è mia Oh Ma cosa c'è prima Ben Ben Deciduto Mutato Mutato Mutata Deciduta Deciduta Clancy Vediamo qua Mia Mia ancora non c'è niente Troche si l'abbiamo Lascio ti libero Zia Zia mia Ti libero Vieni qua Sono tronchesi Vai entra Ehi Mia Per fortuna sei viva Sono io Sono Ethan 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 Ehi stai bene Tu non dovresti essere qui Ma che vuoi dire Mi hai contattato tu No Non sono stata io O forse Qualcuno ti ha visto entrare Lui ti ha visto Lui Ma c'è qualcun altro Che diavolo succede qui Sta arrivando papà Dobbiamo andarcene Papà Dobbiamo andarcene adesso Ma che cazzo sta di questa Regà Papà è quello di prima Non sembra che sia malissimo In un posto sicuro Vuoi dirmi cosa sta succedendo Ehi Ti ho creduta morta per tre anni Tre anni Sei sicuro di quello che dici Dai per favore andiamo Possiamo parlare dopo Perché se faccio così Ma che posto è mai questo Che ti hanno fatto Non adesso Dobbiamo trovare una via d'uscita Adesso senza parole Non riesco a parlare Forse da questa parte Sono troppo preso Che fa Non posso guardare il culo Guarda ma quelle lì sono teste mozzate Mia Noi dobbiamo parlare Il messaggio che hai mandato Credimi Quella non ero io Ma l'hai fatto Non sono stata io Ok d'accordo Ma dimmi che sta succedendo Ti sto dicendo tutto quello che so Giuro Dobbiamo andare di qua Ok però perché ti giri Mamma mia raga C'è uno sguardo Sta qui che mi fa cagare addosso Sti giapponesi bastardi Sai dove stiamo andando? Qui la famiglia mi passava da mangiare Sì me lo ricordo Piano ti prego Piano Lì È proprio lì Apri? È questa Ok Ricordo la stanza C'è un'altra porta Ne sono sicura No non ce ne È sparita È sparita Sì calma Saremo una famiglia Ora che tu sei qui No ma che sta Dio Sono sicura che ci sia un'altra porta Staffa? Mia Dobbiamo uscire da qui Non muoverti ok? Io do un'occhiata Porca vacca raga La c'è un bambolino L'ho docchiata subito Un'altra bambolina Sembra mia questa Questa non è mia No no Lascia che stai Tu cazzo è? Oh E001 Tu cazzo è? Eh io corro raga Ok benvenuto eh Un telefono Panni sporchi Che non mi interessano Telefono 911 Sì sicuro funziona Metti giù Metti giù Metti giù Non c'è linea Apri qua Mappa casa ospiti Bella la mappa Ok Primo piano Questa parte di su Ok Stituto un brutto rumore Questa non è la seconda parte Della beta cera Soluzione medica Cominciano a darmi le soluzioni mediche Bene Questa è una cosa che mi fa molto piacere Allora facciamo così la soluzione medica Si mette già Ragazzi è qualcosa che mi sta veramente dando fastidio A questo giorno E' qua ancora No 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 Ah devo fermarlo tante volte Dimmelo no Mia Aspetta Aspetta Mia Bastarda Io sto premendo Non so se devo prendere o meno Ma che ha fatto Riesco a sentirla Riesco Io riesco a sentirla Lottare dentro il mio corpo Mattere via Lasciami stare È giusto Sono stata cattiva Ma fermala che tu no Che ti hanno fatto mia Usa soluzione medica Che figata Si non ti cura le ferite così Il coltello dov'è Ok mi sa che io devo fare qualcosa adesso No Non era finito tutto questo Va via Si si me ne vado Me ne vado Me ne vado Scusa Sei stato tu a chiamarmi Oh cazzo Siamo tutti morti Bastarda Aia Stronza di merda Meno male che la tua moglie Uff Uff Prima che Zio L'hai uccisa Ok 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 Ragazzi qua ci può essere una potenziale serie Veramente pazzesca Da fare tutti insieme Mi raccomando Se vedo tanto supporto Continuerò a farla Senza problemi ragazzi Mi basta vostro supporto signori Quindi capo di squadra tutto ci sentiamo prossimamente in questi giorni con di nuovi video Lasciate un mi piace mi raccomando iscrivetevi Attivate la campanellina se vorreste vedere ogni mio video e rimanere aggiornato Bella